Ci siamo quasi, è tutto pronto. Si aprono le gabbie. Partiti i cavalli del premio Abu Dhabi 2024. Pollenta a partire Macamera, veloci invece Camis, Altagiani, VDC e Leno di Trecenta. Poi Macamera che recupera la posizione rispetto a Nardagobio che scivola in coda. Questo è lo schieramento dei 5 cavalli che adesso compongono una specie di fila indiana un po' disordinata con ancora in vantaggio Camis con Giuseppe Ercegovic. In seconda posizione c'è Altagiani, VDC che ha la stessa identica quota di Leno di Trecenta che segue con la Giubaviola in terza posizione. In quarta troviamo la femmina Macamera che precede l'altra femmina della competizione, Nardagobio. Questo ordine, i cavalli affrontano la prima parte della curva, nessuna variazione sul tema. Sempre Camis in vantaggio, adesso sollecitata e pungolata da Altagiani, VDC in seconda posizione. In terza con la Giubaviola e Gialla e Leno di Trecenta a precedere Macamera. E ancora Nardagobio che chiude il gruppo dei partecipanti. Cavalli che in questo ordine entrano addirittura ad arrivo. Si fa costante la pressione di Altagiani, VDC che va ai fianchi di Camis e Leno di Trecenta dietro a questi che prova subito a muovere. Poi in quarta posizione troviamo Macamera e in coda Nardagobio. Siamo a 400 metri al traguardo, ci sono tre cavalli a lottare. È prevalente la pressione di Altagiani, VDC che passa in vantaggio e scivola in corda. Nei confronti di Leno di Trecenta che ci riprova e deve ancora però dare il suo spunto principale. Ma davanti c'è sempre Altagiani che per ora ha respinto tutto e tutti. Nel tratto conclusivo Altagiani, VDC, sfrutta il peso e vince nei confronti di Leno di Trecenta e poi per il terzo posto Camis. Per il quarto invece Macamera. Vince Altagiani, VDC che ottiene così la vittoria numero tre in carriera in quattro corse disputate. Uno al primo posto, Alessio Satta in sella, il training è quello della Endo Bottigalop, i colori della razza latina. Vince numero uno dello schieramento figlio di Burning Sand, quota conclusiva di due. Secondo posto per Leno di Trecenta, uno due e poi quattro. L'ordine d'arrivo ufficioso, numerico e probabile della seconda. Per ora è tutto. Grazie. 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 Grazie.